Nessuno può vivere senza amore. Papa Francesco ha iniziato così la sua catechesi e l'udienza generale in Piazza San Pietro, incentrata sulla speranza cristiana, ricordando che esiste una brutta schiavitù, pensare che l'amore vada meritato attraverso l'essere forti, attraenti e belli. Si cerca visibilità, ha aggiunto il Papa, per colmare un vuoto interiore, perché si è sempre in cerca di conferme, si mendica l'attenzione altrui e non si vuole bene gratuitamente. Un mondo così, ha sottolineato Francesco, è un inferno e tanti narcisismi dell'uomo nascono da un sentimento di solitudine. Eppure l'amore è una chiamata per nome, che cancella l'infelicità anche di tanti bambini e adolescenti che non sentendosi amati percorrono la strada della violenza. L'amore è uno scambio di sguardi, gratuitamente sorridiamo, ha detto Francesco, a chi sta chiuso nella tristezza e subito si aprono le porte del cuore. Dio ci ama per primo, non lega la sua benevolenza alla conversione che è conseguenza dell'amore. Ci ama in modo incondizionato, come un padre e una madre che nonostante gli sbagli dei figli continuano a stare accanto a loro. L'amore dei genitori, ha sottolineato il Papa, ci fa capire come è l'amore di Dio. Noi siamo sempre davanti ai suoi occhi piccole fontane fatte per zampillare acqua buona. E come si fa sentire alla persona che uno le ama? Bisogna anzitutto abbracciarla, farle sentire che è desiderata, che è importante e smetterà di essere triste. Amore chiama amore in modo più forte di quanto l'odio chiami la morte. Gesù non è morto e risorto per sé stesso, ma per noi, perché i nostri peccati siano perdonati. Poco prima dell'ingresso in piazza San Pietro, il Papa aveva salutato i malati che lo attendevano in aula a Paolo VI per evitare il grande caldo di questi giorni. Nei saluti in italiano ha rivolto un pensiero ai familiari dei militari deceduti in missione di pace.